Scrivere il curriculum. Cos'è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto il curriculum dovrebbe essere breve. Ed obbligo concisione e selezione dei fatti, cambiare paesaggini, indirizzi e ricordi incerti in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi solo se all'estero, l'appartenenza a un che, ma senza un perché, onoreficenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola su cani, gatti, uccellini, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non doveva colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio scoperto. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta.